Musica Un buongiorno con Mattino 6, un saluto particolare alle donne perché oggi lunedì 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza di genere. Nella nostra rassegna stampa la cronaca col crollo del viadotto sulla Torino-Savona ma anche tanto Abruzzo e soprattutto come ogni lunedì tanto sport. E proprio dall'Abruzzo partiamo sulla prima pagina del centro, ucciso in casa a caccia all'assassino, all'Aquila, operaio di 55 anni, trovato morto con ferite a testa e torace. Nella fotonotizia violenza sulle donne e la giornata oggi per dire no pescarà tanti eventi per la manifestazione mondiale. E sempre a Pescara licenziamenti e trasferimenti alla Vemac c'è aria di crisi, vento forte all'aeroporto voli in ritardo o dirottati. Nel taglio alto la cronaca nazionale a 6, crolla un altro viadotto, strage sfiorata in Liguria. Il fisco in Abruzzo rifiuti nel 2019 salasso da 326 euro a famiglia. Nel taglio basso comune due concorsi a rischio a Pescara un concorrente escluso presenta ricorso per farli annullare. Andiamo sulla prima pagina di Chieti, Lanciano e Vasto. A Vasto in vendita la casa del delitto Lizzi, a Chieti vittima di stalking, a 17 anni l'ex nei guai. Torrevecchia e Tatina, depuratore abusivo, in tre sotto accusa. Nella fotonotizia la serie D, la vastese che ha vinto e vedremo in seguito il resoconto della partita. La prima pagina di Teramo, allagamenti e frane, alberi su auto e case. Questo è il resoconto del maltempo a Teramo. E sempre a Teramo ho denunciato un caso di mobbing all'istituto. Svaliggiate due case, rubati soldi e gioielli. Nella fotonotizia anche qui lo sport. Il Teramo che ha pareggiato con il Bari addirittura ad arrivo alla conclusione della partita. che vedremo in seguito. L'Aquila, Avezzano e Sulmona. Floris fa una sua lista e lascia Forza Italia a proposito delle prossime elezioni di Avezzano. Il sindaco, aiuteremo i familiari del pastore, Goriano Sicoli, migrante morto. Attorno in parte, Polenta da 153 metri che adesso entra nel Guinness. La prima pagina abruzzese del messaggero. Trovato morto in casa un giallo, Paolo D'Amico, 54 anni, aquilano dipendente dell'ASM, rinvenuto ieri sera con la testa fracassata e due colpi di coltello nelle campagne di Barisciano. Si indaga per omicidio. Oggi, l'abbiamo detto, è la giornata contro la violenza di genere. Donne nel mirino, i numeri impressionanti delle violenze. Biom di denuncia a Chieti e Pescara, manifestazione per Anna. L'Abruzzo recentemente ha avuto molti casi di cronaca di violenza sulle donne. Pescara, la festa di Capodanno nell'area di Risulta. Villaggio dei bimbi e luci d'artista, ristringono lo spazio a Piazza Salotto. Torni in parte, la Polenta da Guinness. Vediamo qui nella foto la lunga tavolata. Si tratta di una spianatoia lunga oltre 153 metri. E allora, andiamo sui quotidiani nazionali, a partire dal Corriere della Sera, che, come detto, apre con la notizia di cronaca. Le piogge, poi la frana, crolla un viadotto. Torna la paura in Liguria, a 15 mesi dal Morandi. Il maltempo flagella l'Italia. Una donna morta nell'Alessandrino. Pilastri Travolti cede un tratto di 30 metri della Torino-Savona. Due anni fa l'allarme di un consigliere regionale. Strutture corrose. Mentre ricordiamo che anche in Abruzzo i viadotti sono commissionati. Salvini ha l'attacco di Grillo. La politica ha tradito il popolo dei Cinque Stelle. Frequentano la dittatura cinese. L'attacco da parte del leader leghista. Hong Kong vota contro Peghino. Raddoppiata l'affluenza alle elezioni e continuano le proteste in Oriente. Andiamo sulla Repubblica. Fermi che crolla. Si schianta un altro viadotto. Il paese del dissesto. Secondo Repubblica precipita ponte sulla Torino-Savona. Il testimonio ha visto il baratro e sono riuscito a bloccare le auto. Allarme per la sicurezza di decine di strutture. Sulla Milano-Genova rischiamo. Un nuovo emorandi. Pioggia record. Allagamenti e frane in tutta Italia. Intanto la dichiarazione di Boccia. Il leader di Confindustria. Il governo sblocchi i 60 miliardi. Con quei fondi possiamo risanare il territorio. E a Hong Kong che vota per la democrazia. Un avviso a Pechino e anche ai governanti stessi di Hong Kong. A proposito delle estradizioni al governo cinese. Il fatto quotidiano. Telesalvini. 100 ore in tv in 4 mesi. Più di Conte. Il triplo di 5 stelle. EPD. In par condicio. I dati Agicom sulle presenze dei leader. Nei TG e nei talk show. In Toscana scricchiola il baluardo della sinistra. Avvicinandoci alle prossime elezioni regionali. L'esercito di Solirobot uccide ma senza ordini. Macchine al posto degli uomini. I droni sono usati per bombardare ormai già da diversi anni. Nel taglio alto le autostrade Liguri a pezzi. Crolla il ponte della 6. Targata Gavio. Frana un viadotto sulla Savona a Torino. Regno unito al voto. La sfida si gioca tutta sulla difesa del clima. Inchiesta a media parte sui movimenti verdi. Andiamo avanti sul Libero. L'Italia che sprofonda nel taglio alto. Crolla un viadotto. Voragine in autostrada. Tragedie sfiorate in Ligure e Piemonte. Vedete qui la foto inquietante del viadotto crollato. La politica. Grillo si vende i cinesi. Il 5 Stelle si tinge di giallo. Beppe incontra due volte in 24 ore l'ambasciatore di Pechino. Un bel favore al PD a Prodi. Amico del Dragone. Il destino del governo è in mano ai comunisti asiatici. E tutto. A spese nostre. Ancora a centropagina Vespa. Ecco perché il fascismo è soltanto un fantasma. E anche le parole della Meloni. Il reddito di cittadinanza mi ha rotto le scatole. E a proposito della ricorrenza di oggi. Le femministe discriminano la leghista. Buongiorno. L'ex ministro ha fatto il codice antiviolenze. Ma nessuna la ringrazia. Andiamo avanti sul giornale. Allarme e terrorismo. Italia nel mirino dell'Isis. L'allarmismo lanciato da Il Giornale. La circolare segreta a cui sarebbe arrivato il quotidiano. I giadisti vogliono colpire le stazioni di servisto. Carola D'Affazio. Comizio per i clandestini. La fotonotizia. Paesi a pezzi. Crolla un ponte e un tratto di autostrada. Parliamo del maltempo che intanto ha causato in Italia una vittima. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. Andiamo sul mattino di Napoli. Italia fragile. Cantieri fermi. E crolla un altro viadotto. Incubo maltempo. Sull'autostrada Torino-Savona. Frana la montagna. Travolti piloni. Costa. Nessuno al sicuro. Il Parlamento sblocchi il piano antidissesso. Idrogeologico. Attualmente Torino praticamente è irraggiungibile da sud. C'è chi pensa che la priorità sia la Torino-Lione. I tagli dimenticati degli enti inutili. Sette su dieci ancora attivi. Per legge dovevano sparire entro la fine del 2017. Cottarelli. E una questione di volontà politica. Il messaggero viadotto giù. Italia fragile. Flagello maltempo. Morta donna in Piemonte. Chiusa l'A21 per una voragine. Frana di fango. Travolge i piloni. Crolla in Liguria. Un pezzo dell'A6 Torino-Savona. Automobilisti salvi. L'asfalto cedeva. Abbiamo accelerato scontro di Maio-Toti. Intanto 1425 ponti senza gestore. A proposito delle falle. Andiamo oltroceano negli Stati Uniti. Per le elezioni 2020 Bloomberg sfida i democratici e Trump scendo in campo. Ha detto il repubblicano. All'Italia la carta luftanza a paracadute per gli esuberi. Andiamo ora sul quotidiano economico finanziario. Parliamo del sole 24 ore. Processi civili a più velocità. Otto mesi al nord. Il doppio al sud. In primo grado Ferrara il tribunale più rapido. 147 giorni. E Vallo della Lucania è più lento. Tre anni per liti bancari ed esecuzioni immobiliari. La giustizia non è ancora uguale per tutti. Bonus fiscali. Attenti ai contanti. La stretta dal primo gennaio. Sottotiro le spese per attività sportive, veterinari e trasporti. Cash ancora consentito per i medicinali. Ma non per le visite specialistiche private. Il fisco, l'avviso da 17 euro e la tassa del tempo perso. Intanto a proposito del crollo del viadotto autostradale. Autostrade e ferrovie nel collo di Bottiglia. Ecco i tratti sotto stress. Intanto il 30% dei treni è in ritardo. Un treno su tre ad alta velocità. Andiamo avanti sul secolo XIX. che in una foto diversa dagli altri ci mostra dall'alto la frana e il crollo del viadotto. Un enorme frana travolto alle 14 di ieri il viadotto Madonna del Monte tra Savona e Altare. Un'altra volta che titola il secolo XIX. Intanto una denuncia a due gialli, retroscena di un crollo. L'economia ligure è di nuovo sotto scacco. Il governo niente gronda, toti ma basta emergenze. L'esperto grave errore. Il pilone in quel punto. L'approfondimento del secolo XIX. Che a tal proposito un boato sulla 6 spezza la ligure. La grande paura corre sui viadotti. Il reportage. Il tempo. Il dramma dei capi. Banch'Italia. Abolito il contante nei bar e ristoranti interni. Vietato anche a loro pagare caffè e pasti con gli spicci. Si può saldare solo con la chiavetta unica. Sindacato dei dirigenti sul piede di guerra. Perché i cassieri così non danno il resto e ci rimettono. A centro pagina la vignetta di Oscio. Salvini prende qualche fischio dai nonni. C'è ragione Grillo. Tocca le vaier voto a questi. L'ironia contro gli anziani di Oscio. Le regionali Di Maio fa la corte alla società civile. La corsa in solitaria è troppo pericolosa. Servono alleanze. I parlantini. I PM fanno politica. Ed è quasi un bene. Le ex portavoci del partito socialista. Supplenza giudiziaria. Se i partiti sono questi. Il commento. Nel taglio basso l'abbiamo visto. Crolla un altro viadotto autostradale. E a proposito del maltempo. Vento e mareggiate. Torna la paura sul litorale. Andiamo avanti sulla stampa. La pioggia fa crollare le autostrade. I cedimenti sulla Torino-Savona e sulla Torino-Piacenza. Traffico bloccato. Piemonte e centinaia di sfollati. Emergenza maltempo nel nord-ovest. Il mare mangia le spiange in Liguria. Molti borghi isolati. Le elezioni distrettuali. Hong Kong alle urne. Schiaffo alla Cina. E ancora patrioti romantici. In lotta contro despoti e corruzione. Bloomberg corre contro Trump. Salviamo gli USA con i democratici. Università, Sanità, nuovi posti di lavoro. Ecco il piano del governo per l'ex Ilva. Evitato lo stop alle merci. Oggi la verifica dei pagamenti. Intanto la politica lega pronta a ricevere i 5 Stelle. Salvini corteggia i senatori ai 5 Stelle. Grillo vi tradisce. e cerca di portare dei parlamentari dalla sua parte. Il secolo rosso da nascondere. A Bologna a Domenica la Meloni. Il PD ha inventato le sardine per non farsi riconoscere. Ovviamente questo è un movimento però quello delle sardine. Che qualsiasi cosa ne pensate. Comunque scevra di ogni bandiera politica. Inclusa quella del PD. Ma al tempo in tutta Italia. Crolla un ponte sulla 6. Meloni, 5 Stelle e Terza Via. No, Grillo, Costola del PD. E intanto il leader delle sardine shock. Basta parlare di Bibiano. La verità di Maurizio Belpietro. Nella fotonotizia il viadotto. Ci risiamo. Stavolta a Savona. Sferato un altro ponte Morandi. Su un'autostrada sotto inchiesta. Un fiume di fango abbatte un tratto della 6. Nessuna vittima. A febbraio la finanza aveva prelevato carte. Dopo un esposto sulla manutenzione. La proprietà è De Gavio. Che l'hanno rilevata da Atlantia nel 2012. Un loro consulente cercava dal Giglio Magico. Nel 2018 il gruppo ha ottenuto il rinnovo delle concessioni. Fazio in ginocchio da caro. La sequestra è Rai. L'attacco al conduttore televisivo. A che tempo che fa? Imbarazzante proscenio. Regalato alla comandante della Sea-Watch 3. Indagata per aver forzato il livieto di sbarco. Con lei alcuni giovani usati per uno spot. A favore dell'immigrazione. La nostra inchiesta. Quasi 700 leggi. Sono del tutto inutili. Perché mancano i decreti attuativi. Intanto nel taglio basso. Anche la gioia merita di essere sacra. Chi cancella il vino è un profanatore. Andiamo avanti con lo sport di questo lunedì. Dopo che si è giocata anche la Serie A. Andiamo sulla Gazzetta. Nel taglio alto. Andiamo dall'alto in basso. Piché in futuro si giocherà su due settimane. Nuova Davis alla Spagna. Ma si cambia ancora il ciclismo. Verso la prossima stagione. Tutto l'orgoglio di Aru. Ritornerò a volare. Ring Kulusevski. Si scatena un altro testa a testa. Tra le prime due del campionato. Juve non solo lotta a Scudetto. Sfida i Nerazzurri per lo svedese. Asta per il giovane talento dell'Atalanta. In prestito al Parma. E duello per l'acquisto a gennaio. Si parte da 30 milioni. Nella fotonotizia vedete il mister dell'Inter, Antonio Conte, con questo abbigliamento medico. Inter in barella. Il gioco di parola della Gazzetta. La ricetta del dottor Conte. Il centrocampista torna nel 2020. Il tecnico prepara Gagliardini. Spera di recuperare sensi. Sul mercato sfrutterà il tesoro Gabigol. Spunta a Fofana. Il sogno è Draxler. Andiamo avanti sul taglio basso. Con Imbobile Ezeco è una capitale d'Europa. Fiorentina chiesa fuori. Montella non ha la testa. Ma Geranieri vince per la prima volta la Sampefuori dalla zona retrocessione. Lecce Cagliari rinviata a oggi per il diluvio. Intanto più fischi che gollo. Rapiatec rischia il posto. E a gennaio l'addio al Milan. L'attaccante è in crisi. Napoli comincia la stangata. Per Allan multa di 200 mila euro. Sarà scontro. De Laurentiis contro tutti. Il patron del Napoli. Andiamo ora sul Corriere dello Sport. La Maratona di Roma. La Lazio vince in casa del Sassuolo con una zampata di Caisedo. I giallorossi battono 3-0 il Brescia. Inzaghi e Fonseca esaltano la capitale. E provano a blindare la Champions. Tonfo Viola. Montella ha fischiato. La Fiorentina cade a Verona. Il tecnico critica a Chiesa. Lecce sotto diluvio. Si gioca oggi. Rinviata la partita con il Cagliari. Con il Cagliari oggi in campo alle ore 15. L'IPI esclusivo. Solo Conte può fermarli. Prima intervista dell'ex CT. Dopo l'addio alla Cina. Che ha detto. Juve ancora al 60%. Se cresce ancora vincerà lo Scudetto. E la Champions addirittura. Ma l'Inter saprà tenere testa fino alla fine. Perché la grinta di Antonio Conte. L'allenatore ha reso competitivo. Un organico inferiore. Andiamo nel taglio basso. Napoli partono le raccomandate. Oggi le lettere ai giocatori che annunciano Italia lo stipendio per l'ammutinamento risparmiato. Solo l'infortunato Malcoul. E il tennis. Nadal piglia tutto con la Spagna. La Davis e sua. Superato il Canada per 2-0 nella finale di Madrid. Punto decisivo del numero 1 al mondo. Andiamo ora su Tutto Sport. Nella foto notizia. Il bomber della Juve. Cristiano Ronaldo. Atletico Ronaldo. Dopo due sostituzioni. E una non convocazione. Cristiano Ronaldo. Domani vuole tornare protagonista. In Champions. Contro i madrileni. Di Simeone. Anche De Ligt. Tenta il recupero. Lampo. Douglas Costa dovrà stare fermo. Per due settimane. In campionato. Per eseguire il ritmi record. Il testa a testa. Con l'Inter. Abbiamo sentito cosa ne pensa Claudio Lippi. Troppo forte. Verdone a Tutto Sport. L'attore appunto commenta anche il calcio. Mazzari e Cairo. Così andate in B. Gioco deludente. La classifica preoccupa. Tifosi ospiti in curva. Primavera una follia. Guaio Inter. Marella out. Torna nel 2020. A Praga gioca Borja Valero. Grande Natale. Regala la Davis alla Spagna. Tennis battuto il Canada. Per 2 a 0. E allora. Prima di andare sulle... Di vedere le previsioni del tempo. Per questa settimana. E andare sulla cronaca abruzzese. Iniziamo per l'appunto a sfogliare il centro. Sulla pagina di Pescara. La Vemac fa i conti con la crisi. Si ridimensiona e taglia il personale. In programma una riduzione dello showroom. Va in fumo l'accordo tra proprietà e sindacati. Il comune in allarme. Avviati 22 licenziamenti. Altri 10 lavoratori staranno trasferiti in Toscana. E a proposito. I sindacati difenderemo i posti di lavoro di Simone, segretaria di Filcams CGL. Dopo il giro di vite a Pescara. I dipendenti sono scesi da 50 a 22. Escluso dai concorsi del comune parte il ricorso. Si rischia lo stop. Un concorrente si è rivolto al tribunale amministrativo per impugnare le prove di ammissione. Nel mirino le selezioni di istruttori. Direttivo amministrativo e contabile per 14 assunzioni. La lettera di D'Alfonso. Il ministero ceda la caserma di Cocco al comune. Questa è la proposta del senatore del PD. Niente auto. Vanno potenziati i bus. Coalizione civica contro la decisione di sospendere la ZTL in via Regina Margherita Pescara. Via Muzzi in lutto. Addio al farmacista Caldarelli. Intanto il maltempo che ha causato disagi all'aeroporto. Vento forte. Il volo da Londra dirottato. Ritardi per Bergamo. Sittin di protesta al tribunale. Nome di Anna Carlini. Morta alla stazione. Marcord. Chiara vent'anni. Vince il talent del Rosario. Andiamo avanti con il turismo. Stagione salva grazie ai grandi eventi. Montesilvano. I dati su arrivi e presenze dell'estate 2019 fotografano un aumento solo a settembre con il Giova Party. Il consigliere Tocco. La crescita va pianificata. Pretaro. Residenti sasperati. La strada ritotta a un cantiere a Francavilla in via Ciconini. Intanto, a proposito della giornata di oggi contro la violenza di genere, oggi alle 11 sarà inaugurato uno sportello antiviolenza in via Roma a Montesilvano. Andiamo sulla pagina di Chieti. Vittima di stalking a 17 anni. Così il mio ex mi perseguita. La storia di una studentessa di Chieti che ha chiesto aiuto alla polizia dopo la fine di una relazione. Minacce di morte. Una valanga di telefonate. SMS offensivi. Ora il ragazzo è finito. Sotto accusa. E per la giornata di oggi gli appuntamenti sono tre, tre convegni per aiutare le donne maltrattate. Intanto a Guardia Grele la mobilitazione per oggi, uno striscione sul municipio che invita le donne vittime di violenza a denunciare. In ogni caso ricordiamo che le donne possono rivolgersi ai centri antiviolenza e rivolgersi a essi non equivale a una denuncia che in ogni caso rimane e deve rimanere una scelta della donna. depuratore abusivo in tre sotto accusa. Torre Vecchia e Tetina, ditta trasformata in una maxi discarica. La provincia pronta a chiedere i danni. In vendita la casa dell'omicidio Lizzi. Dopo quasi due anni resta un giallo la morte del pensionato a Monteodorisio. L'abitazione finisce sul mercato. Andiamo a Lanciano. Finiti i lavori. Fermata la frana di San Biagio ma mancano i fondi per l'ultima parte del muro. Mai arrivati 70 mila euro. dalla regione. Ci sono però i fondi per il busto di Palizzi. Zero adesioni. Naufraga il progetto del comitato insieme di Vasto per realizzare un monumento. Il ricordo del pittore. Prima di andare sulla pagina del capoluogo abruzzese che leggeremo tra poco. Adesso le previsioni del tempo. Una breve pubblicità e subito dopo torniamo con la nostra rassegna stampa e la cronaca abruzzese. A tra poco. Rieccoci a mattino 6 lunedì 25 novembre. Continuiamo con la nostra rassegna stampa. Torniamo sul centro. Andiamo all'Aquila. Che nel taglio alto il giallo di Barisciano trovato morto. Si indaga per omicidio. Operario di 55 anni. Scoperto dai parenti nella sua casetta in una zona boscosa. Coltelata al petto e ferita alla testa. L'anatomo patologo ha detto una lite degenerata. Casa messa a soccuadro. Repertate sostanze che saranno analizzate. Ovviamente si indaga per omicidio. Polenta da 153 metri. Torni in parte entra nella Guinness mondiale. Successo dell'iniziativa. 200 volontari. Stendono 40 a callare. Festa collettiva tra fuochi e carbonai. Il giudice certifica il record. Vedete qui nella fotonotizia. 153 metri di Polenta. Andiamo ora a Teramo. Il maltempo. Allagamenti frani e alberi caduti. Decine gli interventi dei vigili. A Castiglione e Messerremondo. Oggi scuole chiuse. A Silvi i grossi rami. Finiscono su una macchina e una palazzina. Vedete i disagi nelle foto. Case svaliggiate. Rubati soldi e ori. A Teramo colpi alla Cona in Viale Crispi. Ladri in fuga senza bottino. A Piano Daccio. Pineto. Mozione a favore della Commissione Secre. In Consiglio Comunale. 5 Stelle. Ancora niente accesso agli atti. A Teramo protesta della consigliera comunale. Grillina. E allora passiamo adesso sul centro. Sul messaggero. Perdonatemi le pagine che il messaggero dedica alla nostra regione. Andiamo a Pescara. Festa di Capodanno nell'area di Risulta. E Navetta in centro. Doppio appuntamento il 31 dicembre. Il primo dell'anno. Lucida artista per il Black Friday. Il Titanic a Piazza Salotto. E intanto Bussi. Nuovo allarme. Squarci nel telone che copre i rifiuti del polo chimico. Ricordiamo la bonifica della zona. Non è ancora cominciata. È stato solamente posto questo telo. Intanto vento sulla riviera. Abbattute le transenne del Giova Beach Party. Nel taglio basso vogliamo giustizia per Anna Carlini. Alle 10 la protesta davanti al Tribunale di Pescara. Montesilvano apre lo sportello. Antiviolenza. All'Aquila ha trovato morto in uno chalet. Tutto fa pensare all'omicidio. Paolo D'Amico, 54 anni, aveva la testa fracassata. I due colpi di coltello. Il rinvenimento in una zona isolata. Subito transennata dai carabinieri. E l'abbiamo vista. La notizia, a dire il vero, ben poco da colazione. Attorno in parte Polenta alla spianatoia. Da record mondiale. Sì che 153 metri di Polenta sarà sicuramente avanzata anche per la colazione. Trattori in piazza. La città in festa ad Avezzano. La cattedrale ieri stracolma per la massiccia invasione dei coltivatori. Per la benedizione dei prodotti del Fugino. Un'antica tradizione per l'iniziativa di col diretti. A Niamacchieti aumentano le donne vittima di violenza da mariti e compagni. In 192 si sono rivolte al centro Alfa. Due su tre sono italiane in provincia e al carcere. Gli appuntamenti di oggi a Chieti. Intanto a Lanciano 54 richieste di aiuto. Nell'ultimo anno c'è più fiducia nei percorsi di assistenza. Il comune investe su due progetti. Intanto giova polemica senza fine. Menna, il sindaco di Vasto, scrive ora a Mattarella dopo che la questura gli aveva impedito di far svolgere il concerto sulla spiaggia. Lorenzo Cherubini. Una polemica questa davvero destinata a non esaurirsi mai. A Teramo tariffa parcheggi scontata per riportare gente in centro. Iniziativa in collaborazione con la Società dei Costruttori Teramani. Un trenino per collegare zona San Francesco direttamente con Piazza Martiri e quindi la zona dello shopping. Giulianova dalla regione 400 mila euro per i lavori alla foce del Tordino. Nel taglio basso Tortoreto, malato di menti, rompe nelle case e in Val Vibrata, no ai rifiuti liquidi Wash Italia. Sono state raccolte a questo scopo 4 mila firme. E adesso apriamo questa ampia pagina dello sport come ogni lunedì. Il Pescara ha giocato venerdì, però ieri sono scese in campo le altre abruzzesi della Serie D e il Teramo in Serie C. A proposito, andiamo subito per quel che riguarda lo sport abruzzese sul centro. A partire dalla Serie B, Tango Pescara in pugno il Baby Belloni. Il Delfino piomba sul 18enne argentino del River Plate. Ai dettagli, la trattativa difficile con il club di Buenos Aires. Ecco queste le prime indiscrezioni sul mercato. Si tratta del secondo miglior marcatore della storia del settore giovanile della società argentina. I Biancazzurri lavorano per limare il costo dell'operazione superiore ai 200 mila euro. Intanto la primavera sfida il Genoa, le Grottagli e senza Pavone. Palmiero invece ancora a K.O. Drudi da valutare per quanto riguarda la prima squadra. Domenica a Perugia si potrebbe tornare al modulo 4-3-2-1. Oggi la ripresa degli allenamenti. Ed eccora la Serie C. Il Teramo strappa un pari d'oro al 91esimo. Proprio per il rotto della cuffia segna subito Antenucci. Il Bari controlla a lungo il match ma nel finale il diavolo ci prova di più. E viene così premiato. Leggiamo i commenti. I biancorossi sono poco incisivi e non riescono a mandovrare. Ma vengono rivitalizzati dagli innesti di Tedino. Buono l'apporto dei subentrati Santoro, Cianci e Minelli. Al debutto il gol dell'1-1 arriva su una carambola. E allora andiamo a vedere la partita di ieri contro il Bari nel commento di Andrea Costantini. Il Teramo che si è presentato con la novità dell'esclusione di Bombaggi con l'inserimento di Martignago e Mungo alle spalle di Magnaghi nel Bari Terrani a ridosso di Simeri e Antenucci. Parte forte il Bari che infatti andrà in vantaggio proprio con Antenucci. Al termine di questa azione un po' confusa la risolve con un gol splendido. L'Antenucci, grande prodezza dell'attaccante molisano che è sceso di due categorie per cercare di trascinare il Bari in Serie B. Lui la sua parte la sta facendo, ma poi il calcio è uno sport di squadra. Il Bari ha qualche problema, è a meno 10 dalla vetta. Gran gol però in rovesciata di Antenucci. Non ha da fare per Tomei nella circostanza. Il Bari sembra poter spingere ancora. Ora c'è questo intervento rischioso di Tomei che blocca il pallone. Il secondo qualche giocatore del Bari si era portato il pallone dentro la linea di porta. Ma insomma si è continuato a giocare. Poco, pochissimo. Teramo in avanti. Qui c'è un pallone vagante, ma l'uscita facile di Frattali in anticipo su Magnaghi. Poi c'è questa conclusione dalla distanza direttamente da calcio piazzato. Di Arrigoni, palla fuori. Poi il Bari con l'ex per rotta, un sinistro violento, palla che sorvola la traversa. Qui siamo nel secondo tempo con questo cross dalla sinistra in ritardo. Gli attaccanti del Teramo. Siamo sul fronte Bari, ma accade davvero pochissimo. La gara è piuttosto brutta, a tratti noiosa. Il Teramo ha il merito di restare in partita. Il Bari ha il demerito di speculare troppo su questo esiguo vantaggio. Fino a che i cambi non saranno decisivi per il Teramo nel finale, finché non entreranno appunto giocatori come Viero e soprattutto Minelli che daranno davvero una svolta. Questo è un gol, non si può neanche parlare di gol annullato, perché al momento del tiro di Costa Ferreira era stata già fischiata una carica sul portiere Frattali. Questo è un cross di Cancellotti con, sì, stiamo rivedendo al ralenti l'azione e l'intervento falloso a centro area. Quindi al momento del tiro di Costa Ferreira il gioco era stato già fermato. Il Bari che si fa di nuovo vedere dalle parti dell'area di rigore del Teramo, con questo sinistro dalla distanza sopra la traversa. E qui siamo nel finale, sono appena entrati Viero e Minelli, Viero tocca per Cianci che tocca di prima per Minelli, sventola con il destro all'ottantunesimo, all'ottantesimo c'era stato il cambio, palla di poco fuori. Poi una trattenuta in area subita da Cianci, protesta Cianci, barese Doc, viene redarguito dai difensori del Bari, cross vedete a centro area, Cianci va giù nel contatto con Di Cesare. E qui siamo al gol del pareggio, calcio d'angolo, un rimpallo, la palla carambola sulla testa di Cancellotti e finisce in fondo al sacco. Una carambola fortunata che premia però l'ottimo finale del Teramo. Bravo a restare in partita fino alla fine, bravo a produrre un forcing efficace anche con le forze fresche dalla panchina e a guadagnare un punto che poteva sembrare insperato ma che alla fine è meritato. Demerito, lo ripeto, del Bari di aver speculato troppo e di aver giocato un brutto secondo tempo. 1-1 al San Nicola tra Bari e Teramo in una gara che era assolutamente inedita. L'offerta del Teramo a Bari, vediamo nella foto la colorata curva ospite, erano in 600 i Teramani al San Nicola. L'allenatore Tedino, inizio difficile, poi abbiamo meritato. Il tecnico elogia i giovani messi dentro nella ripresa, da loro grande contributo, il rammarico del grande ex Vivarini, non l'abbiamo chiusa, siamo arrabbiati. È stato rispolverato il rombo dopo due mesi ma l'incisività in trasferta ancora non c'è, il commento a proposito del modulo. Leggiamo anche il calcio femminile, il calcio a 5 femminile, primo K.O. per il Montesivano mentre il Francavilla invece vola. Ed eccoci con la serie D, la tredicesima giornata, la vastese scatenata, esposito show a Recanati. Gli aragonesi vanno sotto ma con i gol di Vittorio e Francesco ribaltano la gara. La rete di Pera alla mezz'ora illude i padroni di casa che poi vengono travolti dagli uomini di Amelia Biancorossi vicino al quinto gol in varie occasioni. Nel finale la rete di Pedroni non salva la squadra di Giampaolo. Giampaolo che commenta non si possono subire quattro reti in 20 minuti. E allora guardiamo queste quattro reti nel match della vastese nel nostro servizio. La Recanatese spreca la ghiotta opportunità di accorciare le distanze sulla capolista notaresco. Dal possibile meno 2 i leopardiani scivolano a meno 5. La formazione di Federico Giampaolo è stata travolta in casa da una vastese perfetta e cinica che ha avuto un approccio alla partita da grande squadra. E' finita 2-4 per gli aragonesi che hanno ribaltato lo svantaggio con cui erano andati a riposo grazie al decimo gol stagionale di Manuel Pera. I padroni di casa hanno avuto la colpa di non aver chiuso la partita nel primo tempo soprattutto dopo il vantaggio iniziale arrivato alla mezz'ora ma dopo che gli ospiti avevano comunque avuto quasi sempre in mano il pallino del gioco. Pera è stato bravissimo a sfruttare un cioccolatino servito da Borrelli che pur non essendo al top ha provato a suggerire il gioco offensivo. L'area canatese ha pagato pesantemente anche l'infortunio di Senigallesi uscito per noie muscolari dopo appena 10 minuti e Dodi entrato al suo posto non ha saputo incidere sulla fascia. I biancorossi ospiti hanno presidiato a tratti bene il centrocampo con Cavuoti ad operare dietro il duo esposito Dos Santos. Proprio Dos Santos al 37esimo chiederà il penalty per un braccio largo di ficola. Il tocco è netto, il rigore ci poteva stare. Padovani in contropiede si allunga troppo il pallone mentre poco dopo è Lombardi a sbagliare. Re canatese che potrebbe raddoppiare al 41esimo con Nodari ma la sua incornata è bloccata da Bardini. In avvio di ripresa i padroni di casa danno subito l'impressione di essere rimasti negli spogliatoi. Al quinto Francesco Esposito pareggia i conti. Quattro minuti dopo palla persa in malo modo in uscita dai locali con Vittorio Esposito che non perdona per il sorpasso aragonese. Ancora il furetto bianco-rosso al sedicesimo con un tiro chirurgico. Uno a tre e doppietta personale. Reazione giallorossa nel tiro di Pera da fuori che Bardini neutralizza in corner. Gara in ghiacciaia per la vastese al ventesimo quando ancora il capitano, Francesco Esposito, anche per lui una doppietta colpisce una recanatese lunga, sfilacciata e disattenta. Il solito Pera ci prova ancora al ventisettesimo di testa ma l'estremo ospite chiude la saracinesca. Poco dopo la mezz'ora a fare accesi e pioggia battente sul Tubaldi c'è ancora il tempo di registrare la rete del subentrato Pedroni che inchioda il risultato sul 2 a 4. In casa leopardiana i rimpianti sono tanti. In quella vastese c'è ora la consapevolezza di essere diventati finalmente una grande squadra. E al proposito di Serie D torniamo sul centro. Rachini si gode il terzo posto, il Pineto continua a crescere, Biancazzurri dopo il successo con il Porto-Santi-Elpidio. E andiamo avanti con la Serie B perché ieri è sceso in campo anche la Giulianova che firma il riscatto e cala il poker in rimonta. Il vasto Girardi passa in vantaggio, poi viene travolto dalla furia giallorossa la doppietta di Suriano, ribalta la gara Cipriani e Fazzini. mettono il sigillo. Il commento partita dai due volti con i molisani meglio nel primo tempo. Nella ripresa la squadra di Delgrosso reagisce e mette alle corde gli ospiti che restano in dieci per il rosso. Kere Mateng, Bartolini esulta e la reazione che mi aspettavo. E allora vediamo il resoconto anche di Giulianova, Vasto Girardi nel nostro servizio. Termina con il Giulianova a prendersi gli applausi del Fadini tutto in piedi al termine di una gara che i giallorossi vincono in rimonta con merito e con largo punteggio di 4 a 1 sul vasto Girardi. Riscatto doveva essere e il riscatto è stato in casa giallorossa con un Giulianova che si fatica a credere lo stesso di sette giorni fa e che sospinto dall'entusiasmo dei propri sostenitori che fanno quadrato intorno alla squadra fa apparire meno terribile la matricola molisana, parsa oggi più vulnerabile del solito nonostante il vantaggio iniziale. La squadra di Federico Delgrosso è in palla fin dai primi minuti quando Barlafante tutto solo in velocità si fa ipnotizzare da Caparro che respinge con i piedi sprecando così un'ottima occasione. Dopo l'avvio bruciante il Giulianova però subisce il ritorno del Vasto Girardi che mette i brividi ai giallorossi al ventiduesimo. Il mobile Varsi pennella il cross dalla destra per la testa di Chiere Mateng, Di Piero si supera e respinge sulla ribattuta, Ferrini salva sulla linea con la sfera che centra Petrone e schizza sulla traversa per poi carambolare sulla linea. Il direttore di gara ben appostato fa proseguire tra le timide proteste degli altomolisani che colpiscono quattro minuti più tardi. Un giocatore del Giulianova rimane a terra lontano dall'azione e i giuliesi chiedono di buttare fuori la sfera ma l'azione prosegue e Nazari commette fallo su Varsi rimediando anche il giallo. Sugli sviluppi del successivo calcio di punizione di Di Lullo ancora una volta Di Piero è chiamato agli straordinari ma l'estremo giallorosso nulla può sul tapin vincente di Nespoli che porta in vantaggio gli ospiti tra le proteste dei giocatori giuliesi che fanno capannello attorno al direttore di gara che fatica a riportare la calma in campo. La reazione dei locali è immediata ma non sortisce inizialmente l'effetto sperato con Fioretti che al 31esimo si allunga ma non riesce ad agganciare e la sfera che lambisce il palo. Ancora Fioretti però al 36esimo recupera caparbiamente un buon pallone sulla tre quarti ed entra in area contrastato da Lepore va a terra e conquista il calcio di rigore che Sturiano trasforma spiazzando Caparro e riportando il risultato in parità. Alla ripresa delle ostilità Pioggia battente e vento forte si abbattono sul Fadini il terreno di gioco ne risente mentre i tifosi si riparano come possono. Il Giulianova rinfrancato dal pari completa la rimonta ed effettua il sorpasso al quinto Barlafante dalla destra pesca in area Suriano che insacca alle spalle di Caparro per la doppietta personale. Il vasso Girardi cala visibilmente rispetto ai primi 45 minuti e non riesce a mettere in mostra tutto il proprio potenziale offensivo. L'unica occasione prodotta al 16esimo è questa conclusione dal limite di Varsi che termina sopra la traversa. E invece il Giulianova ad andare vicinissimo al terzo gol al 18esimo. Ancora Suriano mette in apprensione la difesa molisana poi Barlafante in diagonale costringe Caparro alla deviazione sul palo con la sfera che termina fuori. E' il preludio al 3-1 giallorosso che si concretizza al 24esimo con un'azione personale del giovane 2001 Cipriani che dalla sinistra si accentra e piazza il diagonale alle spalle di Caparro per poi lasciare il terreno di gioco tra gli applausi al 39esimo sostituito da Forcini. Notte fonda per i molisani al 46esimo quando un appannato Chiare Mateng commette fallo su Ferrini e rimedia il secondo giallo di giornata lasciando i suoi in dieci. E così nel finale il Giulianova cala il poker con un gran gol di Fazzini con la sfera che centra il palo interno e si inzacca in rete. Il Giulianova conquista così meritatamente tre punti liberatori che sono una vera e propria boccata d'ossigeno per i giallorossi e riceve il tributo del Fadini in attesa di mostrare lo stesso volto anche in trasferta. Giornata da archiviare subito per il basto Girardi che incassa la sconfitta più pesante dall'inizio della stagione. di nuovo in studio andiamo avanti Miani mette K.O. il Lanciano al 92esimo l'Alba di Rattica strappa i tre punti all'ultimo attacco e aggancia i rossoneri al secondo posto. Intanto a proposito di Serie D la settima sconfitta per l'Avezzano che cade ad Agnone Paris sbatte fuori il Franchi il presidente giocatore indisponente ma partita indecorosa di tutta la squadra qualcuno hanno fatto male gli stipendi con risposti senza pensarci due volte ed è subito polemica primo tempo regalato ai molisani con il vantaggio con l'argentino a costa faccia a faccia tra squadra e tifosi ufficializzati i primi rinforzi da domani torna di Curzio mentre dal 3 dicembre si aggregano Leto e Bittaie Liguori avremmo meritato il Pari e su Franchi ora si inserisce il Chieti in ogni modo andiamo a vedere il resoconto di Avezzano Agnone la disfatta della squadra marsicana nel nostro servizio Prova del 9 per l'Olimpia agnonese che dopo Iesina e Tolentino vuole superare sul suolo amico anche l'ostacolo Avezzano il signor Leone della sezione di Bari disegnato per garantire la regolarità solite nubi novembrine che coprono il cielo sul Civitelle manovre sterili da entrambe le parti per quel che riguarda i primi 20 minuti dove annotiamo soltanto una punizione di Peic per i Granata che non ha prodotto significativi risvolti al 26esimo corner di Nicolao stacca a costa ma le misure non sono ancora quelle giuste di lì a tre minuti Peic mette i brividi ai marsicani da esigua distanza Fanti fa buona guardia ma al 40esimo a costa decide di rompere il silenzio correggendo in rete un cross degno del ruolo da terzino vale a dire quello di Nicolao e Agnone avanti 1-0 al termine dei primi 45 minuti con il contributo tecnico di Antonio Di Perna entriamo nella ripresa altro spunto efficace di Nicolao e con E non impatta davvero per questione di centimetri intorno al ventesimo a costa prima di essere sostituito va vicino al bis personale pizzicato però al di là della linea dei difensori pericoloso anche l'avezzano di lì a poco con traditi Meceri deve superarsi con un prodigioso intervento 36esimo è la volta di 40 sempre nelle fila ospiti Meceri accompagna fuori siamo all'epilogo del match in entrambe le squadre alberga un po' di stanchezza il campo diventa abbastanza pesante ultimo brivido per i Granata girata di Brunetti il portiere molisano salva nuovamente il risultato anche se si era alzata la bandierina dell'assistente finisce 1-0 nel segno di Acosta il terzo brindisi consecutivo dell'Olimpia agnonese che domenica prossima sarà di scena all'Aragona contro la Vastese fresca di un sonoro poker ai danni della Re Canatese Avezzano a colloquio con i propri tifosi a margine della gara in virtù dell'insolente posizione di classifica Andiamo ora rapidamente a leggere il calcio anche sul messaggero Pescara e Perugia una sfida tra amici domenica prossima Zauri affronta l'ex Oddo di cui è stato collaboratore nel Delfino e all'Udinese le strade poi si sono interrotte quando l'ex Laziale è rimasto per il settore giovanile il Delfino bussa a casa Milan a proposito di mercato piace Maldini Junior tanti nazionali stanchi è giusto cambiare un punto di vantaggio sul Grifone le due squadre sono posizionate in zona playoff quelle che si affronteranno nella prossima giornata di Serie B mister Zauri torna alla difesa a tre consapevole che l'assenza di Palmiero è condizionante andiamo ora nella Serie C Cancellotti il cuore del diavolo grande pareggio del Teramo a Bari finisce 1-1 una gara condizionata dalla pioggia festa per i 600 tifosi al seguito in apertura galletti a segno con Antenucci poi viene fuori il gioco degli abruzzesi che rimontano a tempo scaduto il mister nell'intervallo ho detto che potevamo farcela infatti hanno pareggiato anche grazie ai fondamentali e cambi decisi da Tedino che hanno cambiato il volto della gara la Serie D l'abbiamo visto Vastese che capolavoro gli aragonesi sbancano Recanati per 2-4 prestazione perfetta contro la seconda forza 16 minuti da incubo e la Recanandese incassa un pesante poker dagli Adriatici esposito sugli scudi finalmente stiamo trovando l'equilibrio ha detto Emelia Lavezzano altra sconfitta ad Agnone al novantesimo l'occasione per pareggiare ci prova De Costanzo ma il portiere Meri salva la porta e il risultato Giulianova la legge del poker alla Fadini finisce 4-1 contro l'Avasto Girardi ma quanta fatica con gli ospiti passati in vantaggio doppietta di Suriano poi Cipriani e Fazzini si è giocato senza impianto di illuminazione il Pineto bene con Rachini ma la vetta è lontanissima Chieti in crisi profonda aspetta subito i rinforzi e il Lanciano ci ricasca l'Alba vince per 2-1 minuti di recupero fatali ai Frentani decide Miani di testa quando il risultato di parità sembrava accontentare tutti in promozione l'Aquila affoga la Sant'Egidese torna in testa 6 gol dei Rosso Blu contro i Vibratiani con Beltris di Maisto e allora andiamo anche a leggere gli altri sport i cosiddetti sport minori sul messaggero il basket serie A2 il Roseto si spegne e Piacenza dilaga gli Sharks cadono in Emilia senza attenuanti i padroni di casa vincono i duelli sotto canestro grazie all'ex Oggide selezione maschile allenamenti al Via per quanto riguarda il volley giovanile a proposito della partita degli Sharks del basket di serie A2 l'allenatore dei Biancazzurri alza bandiera bianca dobbiamo trovare al più presto la nostra identità niente alibi ci hanno sovrastato ha detto d'Arcangeli intanto ciclocross abruzzesi in evidenza nelle Marche ma andiamo ora nel basket di serie B sagra degli errori e per le Sacchietti è un tonfo amaro con in silenzio il dirigente sede solda calo di concentrazione ancora tribuna per Capitan Gialloreto Sanna non basta nel taglio basso Adriatica presteramo successo da applausi seconda vittoria di fila e prima davanti ai propri tifosi contro la Sutor premiata super di Bonaventura nel taglio basso Globo Giulianova riscatto dopo il doppio stop domato senza affanni il fanalino di coda Porto Sant'Elpidio Chiti Piccone giornata di Grazia andiamo avanti serie C gold vasto disastro in trasferta la magic asfalta Perugia il presidente Spadaccini fragilità imbarazzante a San Benedetto del Tronto intanto in attesa del derby Lanciano giovedì va a Pesaro per il recupero a proposito dell'Uni basket la palla a mano a Teramo non si gioca per pioggia e anche Sieco impavida un'altra gioia sesto successo di fila Ortona cade anche la corazzata Siena primato in classifica condiviso con il Brescia e allora leggiamo anche gli altri sport sul messaggero prima di salutarci Sieco altra impresa ha battuto il Siena tie break esaltante l'abbiamo appena letta la notizia che arriva dalla palla a volo Ortona al comando assieme a Brescia nel raggruppamento la fotonotizia è dedicata al basket di serie A2 gli Sharks Travolti Duro KO a Piacenza gli emiliani si impongono per 87 a 67 Roseto Molle in difesa nella lotta ai rimbalzi una prestazione decisamente in colore ma anche la palla a nuoto settebello super per De Ioris buona prova Parquet bagnato le donne non giocano pari dei Lions a proposito della palla a mano ma ancora il basket quello di serie B chiedi sconfitto vincono Terramo e Giulia Nova e allora per la rassegna stampa di questo lunedì 25 novembre è tutto io vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo che l'informazione torna alle ore 14 con il TG6 grazie e una buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti.